Ciao a tutti, ciao Vito, grazie per avermi dato la possibilità di fare questo saluto come capodelegazione del Movimento 5 Stelle. Vi dico, sono onorato e vi confesso, sono veramente molto emozionato. Voglio ringraziare te, Vito, tutti i facilitatori e tutti coloro che hanno dato un contributo importante per l'organizzazione di questi Stati Generali che rappresentano un momento di condivisione, di confronto, di coinvolgimento e sono Stati Generali che sono molto importanti perché è proprio nei momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia che una forza politica deve misurarsi con la propria capacità di dare una prospettiva al Paese e questo vale a maggior ragione adesso che il Movimento 5 Stelle sta governando ed il governo ad affrontare una crisi che non ha precedenti nella storia della nostra democrazia e ci tengo a dire a tutti voi che stiamo governando e lo stiamo facendo portando avanti le proposte e le idee e i valori che da sempre fanno parte della nostra storia e del nostro DNA e che adesso si concretizzano in leggi dello Stato. Fare l'elenco di tutte le leggi che abbiamo portato all'approvazione al governo e al Parlamento è difficilissimo nel poco tempo che mi è concesso però voglio fare un esempio secondo me molto concreto che è quello del super bonus una misura che racchiude in sé la visione di uno Stato, una visione economica in cui uno Stato investe nella riqualificazione energetica degli immobili esistenti, delle case, dei singoli cittadini e migliora la qualità di vita del singolo cittadino salvaguardando l'ambiente e creando nuovi posti di lavoro è uno dei nostri obiettivi di sempre che è diventato realtà così come realtà sono diventate alcune leggi penso al reddito di cittadinanza, al decreto dignità, permettetemi di dirlo alla legge spazzacorrotti all'incredibile risultato che abbiamo raggiunto con il taglio dei parlamentari leggi che senza il Movimento 5 Stelle, diciamolo con orgoglio, non avrebbero mai visto la luce ed è giusto che io dica a tutti voi, trasmettendovi proprio l'esperienza che stiamo facendo al governo che dietro quell'elenco di leggi c'è un percorso, in questo percorso il punto di partenza è sempre la volontà politica di voler raggiungere l'obiettivo, quello è essenziale però non è sufficiente perché poi arriva in quel percorso in cui devono esserci le competenze in cui devono esserci la perseveranza e la determinazione per sedersi in un tavolo e confrontarsi con le altre forze politiche convincendole della validità di quelle proposte per poi arrivare al risultato in cui il valore che ti aveva portato a far entrare tanti portavoce all'interno delle istituzioni, quel valore lo vedi trasformarsi in legge scritta nero su bianco nella gazzetta ufficiale e non ci sono interruzioni in questo, è un unico filo conduttore che attraversa la nostra storia, che parte dalla meravigliosa visione che hanno avuto Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio e che attraversa il nostro percorso e che unisce tutti gli attivisti insieme a tutti i portavoce e membri del governo potevamo fare meglio in alcune occasioni? Certamente, cerchiamo, credetemi, di migliorarci ogni giorno per essere all'altezza del nostro progetto e del popolo meraviglioso che siamo stati chiamati a servire e ho l'onore di rappresentare qui tutti i ministri e membri del governo del Movimento 5 Stelle che ogni giorno in questo periodo combattono contro l'avanzata del Covid cercando nei settori di loro competenza, tra mille difficoltà, ricevendo a volte tanti attacchi cercando sempre le soluzioni e le risposte migliori come è giusto che sia senza orari perché è una corsa contro il tempo ma quello che ci tengo a dirvi è che sono difficoltà che affrontiamo grazie al sostegno della nostra storia e di tutti gli attivisti che qui voglio ringraziare così come i risultati che riusciamo a raggiungere sono sempre il frutto comunque di una sinergia con i territori con i consiglieri regionali, i consiglieri comunali i nostri amministratori sul territorio a prescindere che siano in maggioranza o all'opposizione adesso siamo aperti a tutte le proposte che verranno fuori da questi stati generali che confermano ancora una volta l'esigenza irrinunciabile del Movimento 5 Stelle di essere unito, compatto sui temi di provare ad essere granitico perché è nella compattezza che noi abbiamo sempre trovato la nostra forza facendo sintesi tra le diverse sensibilità che ci sono al nostro interno e alimentando costantemente il dialogo e il confronto ci sono tante sfide che ci aspettano basta pensare al fatto che l'Europa tra i pilastri principali della ripartenza ha individuato l'innovazione tecnologica la digitalizzazione la svolta green nella tutela dell'ambiente e le politiche sociali a sostegno dei più deboli sono i nostri temi di sempre e ancora una volta questa dal mio punto di vista è la dimostrazione che il Movimento 5 Stelle è protagonista e deve esserlo del futuro che tutti insieme stiamo scrivendo anche in questo momento difficile grazie Vito grazie a tutti voi buon lavoro, buoni stati generali grazie Alfonso del tuo saluto e del tuo contributo